e comunque ragazzi allora la telecamera un po messa storta e si vedeva anche tutto male quindi vabbè no comment allora come avrete intuito dal titolo come si vede dal titolo what's my bag cosa c'è nella mia borsa allora cambio di sempre di ruota di stagione in tutto le mie borse di ogni tipo di dimensione eccetera o anche di modello quindi ho voglia di fare un video what's my bag e vai si troppo bello quindi va di mostrarvi la mia bella borsa è piccola ma non molto è spaziosa anche non è tanto capiente ma un po sì allora questa è la mia borsa vedete ecco qua la mia bella borsetta dove ci sa di tutto e di più più o meno più o meno sembri comunque sta la mia borsa e nulla e dentro c'è un po di tutto allora cominciamo vedete qua come c'è tutto non so se si vede se si capisce aspettate facendo la luce perché qui si vedete un po male ok così si dovrebbe vedere bene allora vediamo un po se questo è il mio portafoglio nuovissimo di zecca questo è il mio portafoglietto non so dove appoggiare o lo appoggio di qua poi all'ultimo per vedere anche cosa c'è dentro il mio portafoglio poi c'è anche questo un portaspicci che all'inizio l'utilizzo come portatrucchi si portatrucchi si come portatrucchi ma adesso ho deciso di metterci dentro gli spiccioletti che sono ci credete eccoli qua gli spiccioli vedete guardo di là perché c'è lo specchio non fa vedere cosa c'è dentro c'è cosa c'è nella telecamera cosa faccio vedere io questi sono i miei spiccioli vedete poi 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 infine allora questo lo metto di qua alla fine ci metto un pacco di fazzoletti la crema amare l'ho dimenticato in camera proprio che niente questo è un pacco di fazzoletti vedete c'è della foxy e niente poi qua in alcune parti ci metto il telefono ma quasi sempre ce l'ho in mano il telefono però qua ci sta di tutto di più anche le chiavi di casa volendo che non vi dico dove le metto perché voglio evitare brutte brutti guai quindi vabbè comunque qua ci sta di tutto qua c'è la tasca dove metterci aspettate aspettate allora qua c'è la tasca dove metterci quello che volete voi qui lo stesso idem un altro scompartimento vedete quello stesso c'è un altro scompartimento pieni scompartimenti e poi questa è la chiusura vedete già è la chiusura ecco qua si vede sì questi sono i manici volendo potete metterli a spalla o anche a tracolla vedete già allora faccio vedere cosa c'è dentro al portafoglio non c'è nulla di che è parte ora soldino carte cartacce e vabbè cartace roba per gli sconti miei quando vado nelle varie come si dice nelle varie profumerie o anche in farmacia mi danno la carta aiuto per realtà non riesco a parlare oggi non so perché questo è della farmacia vedete già aspettate un secondo che ve lo poggio carta fedeltà carta fedeltà carta fedeltà mica allora la carta per la douglas si vedrà qualcosa si douglas poi metto di rafferrano solo mettere altro questa della invece non c'entra niente vota si mi stava anche cadendo parto un po da fu e poi vabbè poi ci sono altre tutte cose che non ci interessano un po c'è carta di entità e cartella sanitaria vedete già e niente qualche spiegelato che potete ben vedere anche voi qualche spicciolo ecco questi sono scontrini tutti scontrini sono questo è della douglas vedete no non si vede nulla se non ve lo giro douglas e nulla altra niente ci tengo a parte gli spiccioletti che c'è qua dentro no aspettate che stai mettendo vabbè io li metto qua al momento va e nulla poi a parte questo non c'è nulla da far vedere era un breve video a parte che farci rimetto tutto lento sono proprio un casino non so più le cose allora questo da mettere di qua questo da mettere di qua e i fazzoletti ve li ho messi ah si è già al suo posto ok niente questo era un morsi mypeg questa mia bellissima borsa e nulla perdonatemi se guardo di la oltre la telecamera e perché c'è lo specchio che mi fa vedere cosa sto mostrando non perché altro cosa devo dire ma perché altro cosa mostro quindi sperando che si cosa faccio vedere in video e così mi aiuto durante la visuale del video che voi state guardando e poi cos'altro voglio dirvi ah se vedete dietro di me c'è la televisione accesa perché sto guardando mela verde e niente se vedete se sentite che è muta perché sennò fa contrasto col video non vorrei che mi bloccassero video quindi no non esiste proprio quindi vabbè forse non esiste nulla non ho idea la copyright è sempre il copyright è sempre esistito però se uno sta un po' più attenta o attento è possibile che il video vada bene online qua su youtube e niente allora ragazzi e miei ragazzi sulle mie buona domenica a tutte e buona domenica a tutte e ve lo rivedisco finché non finisco di caricare gli altri video sempre qua sul canale youtube ok ne farò un altro ma prima o me lo preparo o penso cosa voglio dire anche senza prepararmi una mazza vediamo perché i video si anche devono preparare ogni tanto si devono anche preparare però vabbè nulla bene ragazze quanti minuti siamo arrivati a 7 minuti neanche non lo so comunque non importa ci vediamo al prossimo video questo video lo carico all'istante e ci si vede al prossimo video ciao ragazze like commento attivate la campanella e iscrivetevi ciao 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 ah ti raccomando non l'ha detto all'inizio alla fine seguitemi su tik tok instagram e ovviamente su facebook e tutti e anche qua su youtube aiutatemi a crescere perché veramente è durissimo a crescere qua su youtube però vabbè niente ciao presto a dopo ciao ciao buona domenica ciao 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 questo